a spazio il nostro capitano primo tiro dell'anno primo tiro da tre primo careschio per il nostro capitano Gabriele fuccio bellissimo lancio baseball per Billy Fall Gabriele conclude Billy Fall a spazio rotundo e questa volta segna dell'isola lo appoggia Billy prende un rimbalzo e riporta il fallo dei minuti di stacco Billy Fall non riesce nella stoppata Gabriele che incontro piede rischia di prendere il pallone tiro a Veneri Bizzarri penetra conchio tutta la difesa con l'affare trovato Falcone dietro a spazio il tiratore dell'umaca e ce n'è per un momento penso al tiro poi trova Billy Billy raddoppiato immediatamente Tiziano Gallo due punti una volta sbaglia due punti verso il pallone allora abbiamo il compio piede e Billy Fall ci regala la prima schiacciata dell'anno si alza tira e va segno certo che si Gabriele ha spazio sul passaggio di Billy vede segna due punti baciando il tabellone di lumaca giro e giocalabbia Gabriele affronta un giocatore più alto di lui riverso in punto Tio Magallo bella la palla per il nostro capitano che non si fa poi dare la stoppa dai pauletti e allora ha spazio Billy fa salta e questa volta appoggia e subì perché non deve portare la palla a Billy neanche per sbaglio ma c'è fa una bellissima Tony Vizzari Giulio passo vedete anche questa volta la fa buono buono è solo due è solo due perché due con più uno palla a Billy bellissima appoggia l'assit più facile della sua carriera superattese si ritrova il pallone in mano bella la palla per Gabriele che ancora appoggia al tabellone ancora per Vizzari Monti Billy bravissimo Vizzari Billy questa volta vuole andarsi a vendicare e si vendica senza passaggio of baseball questa volta ha una ha un'autostrada e se perde palla riperso ancora la possibilità di prendere due punti check in pump e segna ottimo riperso Billy spaccano una doppia e va a canestro e sono quarantattimo ah peccato minuto va a rimbalzo e riesce a realizzare la penetrazione e poi passa Gabriele e lui che si prende la penetrazione accenna un gancio è ferito sbaglia ma Billy a rimbalzo guarda capisce di poterlo fare riparte e questo è un bel passaggio e allora sotto affronta Gallo prende la penetrazione prende il fallo e segna due punti questo dell'umaca scusate sono i benzeiesi è bello il movimento di Tiziano a rimbalzo Billy conchio tre finger roll e taglia fuori il sommersaio e segna vai